Neppure il tempo di parlare di Coppa Italia e ci si rigetta sul campionato sia di Serie A che di Serie B. E allora guardiamoci anche perché il Cesena potrà rimanere per quel che riguarda la Serie B alla finestra e soprattutto ha dalla sua questa nuova carica dovuta al fatto che ha superato l'Empoli passando il turno in Coppa Italia potrà restare alla finestra in attesa del posticipo di lunedì sera contro il Benevento. Dall'altra parte invece cosa si può dire? Che quasi tutte le squadre di Serie A hanno passato il proprio turno qualcuna l'ha presa seriamente come la Sampdoria ad esempio qualcun'altra un po' meno schierando squadre di prime riserve comunque però mai i titolari. Ci si ributta nel campionato con una sfida quella fra Napoli e Inter che potrebbe dire davvero forse l'ultima parola per ciò che concerne il campionato delle due contendenti perché se vince l'una o l'altra è chiaro che l'una o l'altra inevitabilmente si fermerà a troppa la distanza non solo tra la Juventus ma anche con le inseguitrici. È un campionato però che a mio avviso rimane apertissimo e soprattutto che può dare qualsiasi tipo di svolta in qualsiasi momento.